Una location particolarmente significativa, quella di una stazione ferroviaria, per rappresentare un ideale viaggio nell'architettura contemporanea siciliana e proposte progettuali per una nuova Messina. Giovani esperti progettuali, paesaggisti, si sono confrontati su temi a carattere urbanistico per una nuova Messina, per la Messina del futuro. Siamo con Gaetano Montalto, presidente dell'Ordine degli Architetti. Come è stato impostato questo lavoro? Il lavoro è stato impostato per la riqualificazione del centro urbano della città. Le aree che si sono scelte sono state quelle a ridosso del mare e tutte alla foce del fiumare della città. Il lavoro è importante perché proietta la città di Messina verso il futuro. Una quattro giorni tra mostra e dibattiti, qual è l'importanza di un avvenimento del genere per la città di Messina? A Messina questa nostra iniziativa è stata accolta sinceramente in maniera molto interessata sia dall'amministrazione comunale che ci ha seguito nella scelta delle aree, per esempio mettendoci a fianco il supporto dell'ufficio Programmi Complessi e dall'Ordine degli Architetti che ha sostenuto questa manifestazione. Abbiamo avuto anche la partnership delle cento stazioni e le ferrovie dello Stato che ci ha dato la possibilità di fare questa manifestazione in questo posto bellissimo e poco conosciuto come la stazione del Mazzoni. Speriamo che questa iniziativa sia servita e serva intanto per fare conoscere dei luoghi della città che spesso sono sconosciuti e anche per fare vedere una quantità di progetti e di idee così grande e ampia che sicuramente è sempre un bagaglio positivo per qualsiasi città.